segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te qui in diretta vi diciamo che c'è stata una scossa cosa di terremoto registrata a firenze ce lo dice anche l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra tre e mezzo e quattro di magnitudo ma insomma sui social viene segnalata avvertita molto forte ci sono dei danni delle faccelo sapere ma